Inevitabilmente è oggettivo che Belloco per la Fiorentina è un giocatore importante, però io penso che in una partita normale, con una settimana pulita d'allenamento, penso che chiunque avrebbe fatto la sua parte nella partita di oggi. Nella partita oggi abbiamo accusato un calo mentale che ci è costato caro e va bene, voltiamo pagina e andiamo avanti. È stato anche un problema di approccio alla partita forse oltre al fisico? No, perché secondo me la squadra non ha iniziato male, poi abbiamo sbagliato due o tre passaggi semplici e secondo me lì abbiamo perso un pochino di certezza noi dando morale a loro, però secondo me la squadra non aveva iniziato male, abbiamo cominciato ad allungarci, abbiamo cominciato a non trovare le nostre linee di passaggio e il Chievo si chiudeva bene e ci ripartiva in contropiede.